Signora Ceccarelli Come sta, signora Ceccarelli? No, no, io non vi conosco, no Buongiorno, signora Ceccarelli Va bene, buongiorno, ma io... Abbiamo bisogno di lei un'altra orta Ma una cosa da niente Un uomo! Oh, che è capace di inganare sua moglie Che è capace di inganare i suoi superiori Perché non potrebbe, dico io Anche perché non dovrebbe inganare O almeno tentare di inganare anche la corte Quanto è glorioso, mio signore Dammi fede, diritta, simplicità e umilità Perciò se vuoi andare bene nella vita Non bisogna mai fidarsi di nessuno Mai, mai fidarsi di nessuno, capito? Ti ah, sei tutto bagnato, stenditi Vuoi che spegniamo un po' con la luce Che forse... Spegniamo la luce? Trova meglio la concentrazione Ti ah, sei tutto bagnato, stenditi Come ora, stenditi Come ora, stenditi Come ora, stenditi Grazie a tutti.